buongiorno a tutti allora oggi faccio un video che mi viene abbastanza richiesto non esageratamente però visto che mi appunto è stato chiesto molte volte da un po di tempo voglio fare la collezione aggiornata delle mie cover allora vi faccio vedere velocemente quelle che ho già fatto vedere nel video precedente le faccio appunto rivedere un attimino per chi magari non l'ha visto comunque ci metto un attimo tranquilli dopo vi faccio vedere quelle che non avevo fatto vedere nell'ultima collezione mi sono ripetuta cinque volte ma va bene quindi abbiamo questa qui giusto io ho un samsung galaxy s 8 oddio si è l'otto ok è venuto un po di memoria tutto in un tratto comunque questa qui con il sushi che mi è stata regalata da una dolcissima fan vabbè questa orribile cioè l'avevo comprata proprio il giorno in cui ho comprato il telefono giusto per averne una perché ancora non avevo per proteggerlo un po tra l'altro guardate come è diventata orribilmente opaca e sporca stando ferma in un cassetto vabbè questa qui e poverina l'ho usata per pochissimo anche perché è un pochino ingombrante però si è un sacco rovinata c'è il becco che sarebbe questa borchia che si è tutto graffiato gli occhi qui sono venuti proprio via tra l'altro ragazzi mi dispiace dire che la mia passione per le cover super fighissime giganti eccetera sta molto scendendo ultimamente sto usando solo cover normali anzi da tipo tre mesi che ho sempre la stessa senza cambiarla quindi mi sa che la mia passione per le cover sta un po scendendo poi questa qui di diva di overwatch questa bottiglietta che ho usato per un bel po però adesso si appunto adesso già la ritengo scomoda e con cos'era lacrime di ragazzi tipo una roba del genere poi questa qui di pusheen che è molto carina però con sti bordi neri non è proprio il massimo poi abbiamo questa qui super morbidosa con l'ancora secondo me questo non l'ho mai usata e però è già rovinata molto bene vabbè non me lo ricordavo neanche di averla sinceramente infine tra quelle che avevo già fatto vedere c'è questa qui con questa cosa di plastica questa qui molto carina di sailor moon con i glitter e perché ci ho messo questo perché il mio cellulare dietro è nero doveva essere viola però c'è nero c'è poco da fare e quindi era molto carina ma vedendo lo sfondo nero dietro non stava bene quindi ho ritagliato questa parte rosa così lo sfondo era rosa molto carino così davvero molto bella si questa non è così ingombrante dovrei metterla però allora queste erano quelle che avevo già fatto vedere quindi ora posso passare a quelle nuove farvele vedere in modo più dettagliato e non in tre secondi allora vi faccio vedere quella che sto usando negli ultimi mesi perché mi piace da morire è questa qui e come vedete è tutta rovinata visto che appunto ce l'ho da un bel po' ed è fatta così con questo sfondo penso che sia tipo un parquet azzurro con varie cose del mare anche un fiore questa sembra una bottiglietta di crema mi piace tantissimo e ci rimetto subito appoggiato questo perché è una calamita che uso per attaccare il cellulare alla macchina ci metto il cellulare qui e lei rimane ferma così posso attaccare il telefono la metto qui se non me la dimentico perché mi conosco benissimo poi abbiamo questa qui con questo gattino nero e se non sbaglio l'ho presa su wish a pochissimi euro 1 2 euro molto carina anche questa ha il nasino che ha la forma di una borchia però questo è di gomma quindi questo non si può rovinare come il guffetto di prima molto carina abbastanza semplice poi un'altra abbastanza semplice però merita perché perché merita perché di pusheen ecco anche questa però essendo semi trasparente si vedrà il nero sotto dovrei forse fare un altro fogliettino perché questo mi sa che vedete che ha la forma un po' diversa si vedrebbe questa parte qui che sta fuori non è proprio bella dovrei ritagliarne un altro di fogli colorati o anche bianco da mettere sotto per farlo sfondo perché non mi piace che si veda il nero devo smettere di comprare i cellulari neri devo comprarli bianchi se esistesse rosa l'avrei comprato rosa ma non c'era poi oddio questa enorme non l'ho mai messa cioè vedete è proprio enorme ed è questo ananas però mi piace un sacco anche se non l'ho mai messa ed è troppo carina e non mi ricordo dove le ho prese ragazzi comunque tutte queste qui secondo me si trovano su siti tipo wish aliexpress e cose del genere anche perché ormai nei negozi fisici le cover per il samsung galaxy s8 non esistono a meno che non comprate delle cose super semplici come questa e quindi niente abbiamo il mega la mega ananas molto comoda oddio sembra per stare a tema di cover molto comode questa è ancora impacchettata eccola qui questa piacerà sicuramente molto alla sabri ed è un cactus anche questa si è molto comoda molto fine delicata sembra che ho fatto apposta per prendere il cellulare vabbè comunque è veramente gigante anche questa ed è appunto questo bel cactus con tutti i fiorellini sono fiorellini non sono le spine sono quei fiorellini dei cactus credo comunque sì molto poco delicata è gigante ma molto carina secondo me ah vabbè questa non mi ricordo neanche se ve l'avevo fatta vedere perché l'avevo comprata per fare un un esperimento e mi dimentico sempre di farlo sempre non so se mai lo farò e comunque niente questa di plastica rigida nera semplicissima senza assolutamente nulla ora passiamo a cose super pucciose allora oddio guardate che carina questa l'avevo presa proprio su wish mi sembra ed è questo unicorno questo non è neanche esageratamente gigante come queste però non l'ho ancora mai messa sì perché ultimamente la pigrizia ha preso il sopravvento anche sulle cover addirittura però è davvero bellissima guardate questo unicorno con le nuvoline che dovrebbero essere le guanciotte queste stelle secondo me fanno da lentigini tipo vabbè la criniera rosa il corno verde acqua che meraviglia è bellissima troppo carina ed è di silicone appunto morbidosa molto carina poi abbiamo questa qui che ho fatto in un video assieme a voi ed è appunto questa con le creazioni pastello devo dire che è molto carina anche se le mie doti di come si dice insomma non sono più brava come una volta a mettere la panna ecco il punto è questo visto che non è esattamente precisissima oddio dovevo metterci qualcosa intorno si sta riempiendo di polvere nonostante sia dentro un cassetto ma che cavolo comunque mi piace abbastanza carina e non avevo una cover di un colore un po più chiaro come sfondo perché si vede il colore scuro sotto di qua e di là non è il massimo però devo dire che è carino dai anche perché non facevo cover da un bel po oddio si sta sfondando con il peso senza averci messo il cellulare rigido ehi vabbè ehi vabbè pazienza infine l'ultima questa non l'ho mai fatta vedere da nessuna parte ed è una cosa sensazionale questa non voglio togliere dalla confezione finché non la metto proprio per non impolverarla oh mio dio guardate che roba è una cosa stupenda l'ho presa da questo negozio che fa cose fatte a mano che si chiama stavo dicendo puzzolandia no ti prego ma cosa puzzolandia molto carino anche la confezione e la cover è qualcosa di stupendo ragazzi allora c'è la cover sotto che è trasparente fucsia e poi sopra c'è la panna strapina di glitter con un sacco di creazioni tutte in fimo tutte color pastello meravigliose guardate sono fatte a mano tutte anche tipo la barretta di cioccolato non ha stampi nemmeno il cupcake cioè oddio sono bellissimi guardate che roba mi fa impazzire è veramente bellissima vi giuro che ho paura di metterla perché sicuramente si rovinerebbe cavolo però non ha neanche senso comprarla per poi non metterla mai quindi prima o poi dovrò avere il coraggio di metterla e sottoporla a pericoli però la trovo stupenda cioè guardate tutto fatto a mano tutto il fiocco e anche questa stellina biscottina bellissima basta l'amo in caso non l'abbiate capito mi piace un sacco e ragazzi io come vi dicevo la mia passione per le cover sta un pochino tanto scendendo quindi non so quando mai rifarò questi video perché davvero non ne sto più comprando e vabbè vedrò magari questa cosa solo passeggera e mi ritornerà la passione per le cover super pacchiane e niente io direi che questo video è finito qui domani sappiate che uscirà un video con mia madre oggi registriamo un paio devo decidere quale perché la scelta è tra un video assaggi e un video di una rubrica che vogliamo aprire insieme di faremo qualche video ogni tanto e adesso devo scegliere magari temi voi se preferite un video saggi o un altro video misterioso che non vi dico ancora fatemelo sapere nei commenti e niente comunque io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo video ciao